Kinder belli fammi vedere Kinder fammi vedere bello lo do a mamma? a papà li vuoi tenere in mano? davvero? si e se si sciolgono come fai mangiarli? si no Giorgia no Giorgia si sciolgono gli ovetti eh? no? li mettiamo dentro un sacchettino? no? li vuoi tenere in mano tutta la sera? marghe ora ti prepari che andiamo giù al ristorante così apriamo l'ovetto lo mettiamo dentro un sacchettino Kinder lo mettiamo qui guarda marghe lo mettiamo qui allora dopo mangiamo la cioccolata col cucchiaio si col cucchiaio davvero mamma 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 un cucchiaio un cucchiaio per Kinder il cucchiaio ma ci vuole un sacchettino? un sacchettino? ciao 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 bene lo sai che domani finisci su youtube? beh vi specchierà perchè non ci ricorda vero che non si sente se parla certo saluta almeno dai il fonte pubblico Amore, ma lo vedete? Il mondo è tutto vintaggio. Hanno messo l'etichetta vintage. Il mondo è vintage. Come? Il mondo è vintage. Marga, me lo dai lo vedo? Lo mettiamo qua, Kinder, sul tavolo. Lo mettiamo sul tavolo, Kinder? Per me, la mia. Da sola, grazie. Giorgia, sempre con quel libro di scuola in mano, cosa fai, studi? Io studio, io continuo. Ieri sera mi sono vista la puntata di che? Di che? No, non mi ricordo come si chiama, il cartone animato. Che c'è? Il libro della morte, la cosa orrenda. È un'anime. È Death Note che probabilmente... Mi state ascoltando? Sì. Che praticamente c'è uno che... È un'anime. È un'anime. C'è uno che trova un libro, che crede che non sia vero. Che praticamente... Se te scrivi un nome, quello muore. Puoi scegliere come farlo morire. Se è di infarto, o se no di un incidente, mi dici che ti pare. Ma magari Topolino non vi conviene leggerlo, eh? Pippo, Pluto, Paperino, no? E' morto questo. E' morto questo. E' morto questo. Brudel mehende. Fa morire. Fa morire tutti i peggiori criminali. Cos'è morto, Giorgia? È morto L. L? Ma dai che c'è anche M, N, O. Ma ora no. Come L non c'è dopo. Si mette qui. Nella pizza. Si strugge. Distrugge. Guarda, a Marghe, sono arrivati i nostri biberon. Vedi? Saluta, che tanto domani sei su YouTube. Ora sono su YouTube addirittura. Eh sì, eh? Ecco. Allora sta tappando, così nessuno la vede che ha aperto il vetto. Lo hai chiuso? Sì. Stai nascosto ora? No, 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 no. Stai nascosto, nascosto. Mamma, allora domani è chiaro a lasciare. Quindi la nostra graffina la berremo di là. Allora, domani io direi. Tu domani non vai a sciare. Tu domani non lavori. Stai con i discorsi. Allora tu domani vai a sciare. Ecco. Marghe. Ma ma che non mi spiega domani non mi riesce? Lo vino, guarda, guarda come l'hai messo questo vino. Guarda, è aperto ed è completamente sciolto. No, è tutto. Eh? No, è tutto. Sciolto, sì. Devi mangiare la pizza. Poi dopo, se mangi la pizza, dopo si mangia lo vino. È vero? Vedi l'ora? Non vedi l'ora. Non vedi l'ora? Nascondilo. L'ho nascosto. Eccolo là. Brava. Così non lo vedi, per un po' non ci pensi. stai facendo qualcosa di nuovo? cosa fai? ehi cosa fai? cos'è? fammi vedere domani devo mettere la sveglia alle 10 se no mi sveglia a lunedì devo essere a lunedì fammi vedere dai nascondilo vino va nascosto va nascosto brava 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 guarda marghe la guarda la guarda ma che succede? eh? cosa c'è? ha fatto uno scherzetto amore cosa c'è? tatina che c'è? non gli toccare lo vino lo vino di chi è lo vino? di chi è? di tai o sennò come ti chiami? tai o? ma no papà cosa c'è tatina? è di tai è di tai nascondilo bene se no qua fai birbante arriva marghe o lì ad a mamma aspetta 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 uh glu vino vino per carità di dio scusate ma io vengo a è buona la pizza io mi offendo ho detto che sono ciucca in matematica mamma tu sei ciucca in matematica è vero è vero? no ma ho detto che c'è la prova frugione e cos'è che gli devo chiedere? se la tua figliola ciucca in matematica che si risponderà di noi fammi vedere un attimo guardami intensamente girati sono qui fammi vedere un attimo ferma sei ciucca in matematica si? si vede? infatti ha deciso di fare lo scientifico che ha deciso? che farà lo scientifico al massimo guarderà super quark te lo dico io ho scelto di fare lo scientifico proprio perché non sono brava in matematica perché sono studio proprio per quello dichiarazione fatta eh? complimenti al cuoco il pizzaiolo dopo ti dico al dino che è bello è stato bravissimo in cosa? a fare la pizza infatti non l'ho fatta io e ti l'ho fatta? e che ne so non dirmi che la pizza l'ha fatta al pizzaiolo eh non so se l'ha fatta al dino no o se l'ha fatta l'altro qui da Aldo la pizza la fa il farmacista lo sapevi? credo siano due deve mai quattacquatta? cosa fai Marghe? dove stai andando quattacquatta tu cos'è che bevevi? litri di birra boccali di birra boccali di birra non piaceva niente e ora cosa bevi? sono boccali? poi sono rimasta incinta appena nevo a casa mi dirà tutto il mondo guarda ora no è mio non vuoi più niente vuoi lo vino? non c'è nulla a fare allora togli fai spazio apri lo vino lei sarà super brava guarda come ti si è sciolto in mano era uno vino e adesso non so cos'è wow come è buono? dalla mamma ci pensa mamma mamma aspetta fermati poi vediamo surprise è robino fermati vediamo cos'è e cosa vorrebbe dire? no Giorgia qui ci vuole la scienza cioè cosa dovrebbe fare? saltare dovrebbe saltare cioè Giorgia mi spieghi come fa a saltare sto topo? Giorgia spiegami come fa a saltare sto topo perché io fra un po' la volo via eh Giorgia tre secondi e la volo via come si fa a farlo saltare vai un altro? apri lo dai apri lo dai mi apri due oggi? che è pasto ecco l'altra sorpresa ecco l'altra sorpresina la per mamma oddio sembrava Giorgia non salta il topino oddio ma cos'è una principessa? per la mamma vuoi da un dolcino? no no caffè? tu si vuole caffè? cosa vuoi? cosa mi offri? dolce o caffè? caffè caffè? caffè vuoi caffè? e una grappina mamma vuoi? due grappine morbide morbide mamma non mi dà la mia conmorza aiuto che morzo? ecco è un caffè? sta una bimba che se lo conosce lei è? una grappina? mi sa una grappina? i mi sa una grappina nooo nooo Grazie a tutti. Canta un po', canta al papà o dì? Che cosa ne prepari? Il caffè. Il caffè. Vieni, prepara il caffè. Ci metti il zucchero. Fai il caffè a mamma. Grazie. Buonissimo. Buonissimo. Taglia la mano, vai. Buonissimo. Guarda la mamma che non vedeva l'ora. Grazie amore, è stata buonissima la fragola. Buonissimo. Buonissimo. Bravi. Buonissimo. Dai la mamma. Marga, secondo me puoi andare alla prova del cuoco. Mi stai girando, brava. Che bambina, brava. Le mangi a te. Oh mamma, le cucinate tutte le mangi a te. È brava. Guarda la camera. Adesso usatele. Ma com'è brava le ammiglie a fare cereali. Shhh, ci vorrei coccolare il gatto. Dov'è il gatto? A me. Puoi vedere? Sì? Vai, vai, vai. Sì? Vai, vai amore. Dopo lo puliamo. Dopo lo puliamo. Vai. Andiamo qui a sinistra. Vai amore. Vai. Marga, mettiamo il bau bau a nana. Poi, a nana ci andiamo anche noi. Sì? Sì? Grazie a tutti.